Allora, salve a tutti ragazzi, qui è ZioTalk Che cazzo sta succedendo? Salve, cazzi, qui è Ottone Briss Qui è Ottone Nabbo Allora, questa YouTube group è stata fatta da un certo Il giulavo, eh? Io giuro, mi pento di averglielo fatto Allora, un conto è fare una cosa bene Un conto è una inculata Non dico una caterba di roba Ma neanche regalarli Ah, non così Certo, ci culeremo a vicenda Allora, questi YouTube group si chiama Ottone al 90% Che accontenterà tutti i puristi di Python Orange Ehm Allora, io pretendo che tutti i puristi Perciò si acrono come KnuckleDix 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 E dire Ah, sì, che figata, guarda che cazzo Che ha fatto, mi metto a farlo anch'io Non so se avete capito No I don't want that Un minuto e venticinque Pietà Se ne fai un'altra Così di merda Ok Se invece la fai bene, allora Ok Nel senso, mi cazzo di nuovo Ti iscriverò al tuo canale E ti sgherrò Oh, lei Stacco nero Certo, certo Ma cazzo no Riturò Uh, ecco Ciao Ciao Papi dissolve Etц Grazie a tutti.